Per le strade di maestre, studenti e lavoratori iscritti ai sindacati di base, USB e SGB hanno sfilato in corteo per lo sciopero nazionale che vede interessati i settori del trasporto pubblico, scuola e sanità contro licenziamenti, precariato, disoccupazione, sicurezza sui posti di lavoro. Lo sciopero ha costretto molte persone ad andare a piedi per i sindacati di base e l'adesione ha sfiorato l'80% dei lavoratori. In futuro ci aspettiamo di avere maggiore considerazione da parte delle varie amministrazioni, da parte del governo, che ascolti perché oggi in strada non c'erano solo i sindacati di base, ma c'erano gli studenti e c'erano i cittadini qualunque. Sui trasporti cosa lamentate? Sui trasporti lamentiamo il ridimensionamento che soprattutto qui nella città di Venezia stiamo vivendo con il taglio dei servizi, tagli delle linee, ma soprattutto con le disdette degli accordi unilaterali. Gli studenti in modo particolare attaccano il governo Draghi. Il Green Pass è una foglia di fico dietro la quale si nasconde un governo che non vuole assumersi responsabilità politiche nei confronti di lavoratori e studenti. Non può essere solo ed esclusivamente questa misura a risolvere la situazione dell'edilizia scolastica e le problematiche che ci sono nel mondo del lavoro oggi. Il corteo ha fatto tappa anche alla sede di Confindustria Venezia. Sulla questione del Green Pass gli abbiamo detto che devono assumersi perlomeno il costo gratuito dei tamponi in base alla legge 81 del 2008 sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. La risposta? Loro hanno preso atto. Gli abbiamo anche detto sul Green Pass che avranno difficoltà secondo noi, secondo le nostre indagini, sulla presenza dei lavoratori, loro hanno detto che comunque tirano dritto.